Il pomeriggio lo apriamo in track 1 con Raffaella Isidori che ci parlerà della cultura, della pratica del design e del suo progetto di Design Culture Collective. Raffaella ha iniziato la sua presenza nella community di Wordpress proprio qui a Torino col primo WordCamp 2015-16 con le date faccio un po' di confusione 2016 quindi insomma sette anni e oggi è sul palco, un applauso. Ciao Torino, come va? Madonna, ma strillo io, si sente tanto forte? Sono io che mi sento urlante. Allora, come sta andando il workshop dopo il ritorno a stare tutti insieme? È una figata, stancantissimo per me perché mi sono abituata a stare da sola ma ottimo. Allora, rapidamente, per chi non mi conosce, mi chiamo Raffaella Isidori. Sono, tra le altre cose, principalmente una designer multidisciplinare. Lavoro da più di 30 anni e ho esperienza in diverse pratiche del design. E sottolineo queste diverse parole perché è quello di cui parleremo. Se volete saperne di più di me, trovate lì le informazioni ma oggi non siamo qui a parlare di me. Pazzesco. Oggi siamo qui a parlare, oggi sono qui come fondatrice e presidente di Design Culture Collective che è una no profit che è dedicata alla promozione della cultura, del valore, della pratica, del design. Che lo so, è un mouthful si dice in inglese. E infatti sono proprio la cultura, il valore della pratica, del design, l'argomento di oggi. Alla fine del talk ci saranno alcuni minuti per domande e risposte per cui se vi viene in mente qualcosa magari appuntatevelo. Per cominciare. Allora, normalmente vi direi di alzare le mani ma se alzate le mani non ci vedono da casa, come si suol dire. Allora vi chiedo di battere un pochino, ma non l'applauso, ma solo fate rumore così anche da casa, siamo inclusivi e anche da casa se no, quanti siete? Tre, se no lo sanno. Quindi, quanti oggi tra voi si riconoscono e si descrivono con il termine designer? Ok, tanti, un po' di demografiche. Quanti giovenissimi? Ok. Quanti millennial? Ok. Quanti exer, la mia generazione? Vai. Ci sono in sala designer nati prima del 64? Oh, fantastico! Ok, allora, pochi magari al World Camp Torino, ma fuori ce ne sono e ce ne sono stati di immensi e hanno plasmato le pratiche e le visioni del design. Ed è importante, soprattutto per le generazioni più giovani, essere consapevoli che la pratica del design non nasce con internet, non nasce con i siti web, è una pratica che esiste da moltissimo tempo, è una pratica che trascende ambiti e generazioni, perché è una pratica in continua evoluzione. perché sono in continua evoluzione i contesti in cui si pratica il design. Ma cos'è il design esattamente? Perché è uno di quei termini che tanti usano con leggerezza, spesso senza avere una chiara comprensione di cosa significa design. E non solo, in molti ambiti, questo l'ho percepito nella mia esperienza, osservo un approccio a silo, dove ciascuno pensa che il design è quello che pratica lei o lui. E il resto, boh, non ci pensano, no? Cioè non c'è una vera consapevolezza del resto del mondo che pratica design. Allora vediamone alcuni. Per Saul Bass, che era un graphic designer, il designer è il pensiero che diventa visivo. Per Irene Howe, il buon design è come un frigorifero. Quando funziona, nessuno lo nota. Quando non funziona, si sente forte la puzza. John Maeda, che è un designer nell'accezione più moderna del termine e il cui lavoro si colloca nell'intersezione fra design e tecnologia, il design è la soluzione a un problema. Per Ray e Charles Ames, che erano industrial designer, il design è un piano, un plan, per predisporre gli elementi in modo che assolvano al meglio uno scopo specifico. La visione dei Vignelli è quella più allineata all'idea generale che abbiamo di design, e cioè il design come aspetto estetico di un prodotto. Ma loro hanno introdotto l'importante idea che il design, creando canoni, crea linguaggi. Però per me è Hans Hoffman, un artista e un docente del secolo scorso, che descrive perfettamente il ruolo moderno del design, definendolo intermediario tra informazione e comprensione. Rebecca Rubens offre un altro interessante insight. Secondo lei, progettare è inventare con intenzione. E dove se si toglie la parte inventiva otteniamo un'ingegnera, ma se togliamo l'intenzione togliamo un'artista. Riuscite a vedere? Secondo la buona vecchia Wikipedia, il design è quella pratica che si occupa dell'ideazione di oggetti fisici, concettuali o digitali attraverso la stesura di un progetto. E questa è l'informazione chiave. Il design è il processo di stesura del progetto, non è il prodotto finale. È il percorso che porta dal vuoto del prima al risultato post-produzione, passando per tutte le tappe intermedie necessarie. Tuttavia, Wikipedia prosegue con che coniughi funzionalità ed estetica. E ecco lì l'estetica, il punto dolente e fastidioso nell'accezione del termine design. Forse è perché è l'aspetto più facile da capire e quindi quello che rimane attaccato, forse un po' di marketing, forse è quello che ci hanno insegnato, o forse è per ridimensionarlo un pochino perché il design è un processo critico e come tale potenzialmente fastidioso. Però ne riparliamo tra un pochino. Per ora torniamo al significato principale. Design significa progettazione. Nello specifico to design si traduce con progettare e designer con progettista. La designer quindi è la persona la cui attività è progettare. Il termine progettare deriva dal tardo latino pro-iectare, gettare avanti. Questo tenetevelo che poi ci torniamo. Ora, immagino che tra voi, o comunque la maggioranza di voi, sempre facciamo il giochino del battere le mani, ogni volta che vi riconoscete, ci siano tanti che si occupano di design digitale. e pensavo di più. Graphic design? Design della comunicazione? Design dei contenuti? Service design? Quanti progettano brand? Quanti progettano esperienze? Quanti progettano prodotti? Immagino non ci siano fashion designer qui oggi, neanche industrial designer, neanche textile designer, o type designer, o lighting designer, o boat designer, o garden designer, o accessory designer, senza andare a scomodare architetti e chef, perché se non è design quello. Qualcuno qui che pratica un design che io non ho menzionato? No, perché non è esaustiva la lista. Tant'è vero che sono designer anche quelli che scrivono progetti di business. Scrivere un progetto è un processo di design. quelli che lavorano una mia passione sulla didattica, sull'esperienza di apprendimento. Quelli che scrivono progetti per i finanziamenti, quelli che scrivono architetture digitali. Tutti sono progetti di design. C'è un mondo di design perché c'è un mondo di mediazioni. E come potete capire, l'estetica c'entra abbastanza poco, con il focus dell'attività progettuale. O meglio, l'estetica è un di cui, è un default. Se scrivo un progetto, devo scriverlo esteticamente coerente. non è che scelgo il font. Quindi c'è un'estetica che è relativa all'ergonomia, all'usabilità, all'aver senso. Non faccio un progetto e lo faccio brutto o scomodo, a meno che quella non sia l'intenzione. Quindi l'estetica è una conseguenza nel processo di progettazione. Non è lo scopo. Lo scopo non è fare cose belle. Toglietemi una curiosità. Tra voi che avete abbattuto le maniche che fate i designer, quando incontrate qualcuno di nuovo, quindi qualcuno fuori dalla vostra bolla, e voi gli dite tu cosa fai? Il dentista, tu cosa fai? Il designer. Che feedback ricevete dalle persone? Cioè le persone sanno, capiscono cosa fate o hanno sempre quella sorta di ah, bello, fai i vestiti quindi, ah, fai gli arredamenti, e te gli vuoi da un cazzotto. Però, vabbè, no? Perché il mondo ha una percezione non corretta della pratica progettuale. E nella mia esperienza, pure le persone che io ho più vicine, se voi andate e gli dite ma Raffella cosa fai? ti dicono sta al computer. Boh. Vi porto un altro esempio. Io dal 2019 lavoro sulla realizzazione di un grosso sito di divulgazione scientifica per la Commissione Europea. Il mio lavoro include l'architettura dell'informazione, la progettazione dell'esperienza, l'art direction, il visual design, il design dell'interazione, il design delle interfacce, però, visto che sono lì e visto che sono competenze che ho, mi occupo anche del design della comunicazione, del graphic design, degli asset social, dei materiali per gli eventi. Sono una designer che pratica diverse discipline di design. Tuttavia, fino all'anno scorso, io ho lavorato in quadrata come sviluppatore perché non c'era la casella designer. Perché l'unico designer tuttora, peraltro, nella Commissione Europea, l'unico design è il graphic design. Tant'è vero che io oggi, l'anno scorso, ho cambiato il framework di riferimento, quindi io oggi non sono più una sviluppatrice, quindi non mento più riguardo alla mia esistenza, ma sono una user experience expert consultant. Presumo che chiamarci design gli faceva brutto, no? Cioè, quindi, sono un expert consultant che fa figo, però, insomma, un po', resto sempre un po' male, no? Allora, perché vi racconto questa cosa? No? Perché la Commissione Europea è un luogo in cui si presta estrema attenzione agli aspetti formali e strutturali delle cose. La Commissione Europea è un luogo in cui si dà forma a politiche, in cui si creano canoni, si creano standard, si creano prassi, per cui, se non c'è il designer, speriamo che il frigo continui a funzionare, no? nella tassonomia dei ruoli, al di là del graphic design, il design non esiste. Questa so io, continuamente. Perché, quindi, siamo ancora lì, no? Cioè, siamo ancora nello spazio-tempo in cui il design si occupa della forma estetica. e purtroppo questo non accade solo nella mente dell'utente finale che, peraltro, non capendo il design può solo subirlo, perché non ha gli strumenti critici per dire ma mi stanno manipolando, mi stanno facendo fare delle cose che, no? Perché? E aziendalmente, cioè, apriamo, no? una diatriba super comune per tantissime aziende il design è quella cosa che tocca fare il design, tocca invece il team di design, no? Oppure il team dove, vabbè, allora, noi abbiamo deciso di fare questa cosa, voi potete scegliere il colore, i font, la tappezzeria, i divani, chiedo a mia moglie, storia vera. Eppure, ci sono aziende da 40 anni che fanno del design il cuore dei loro prodotti. La maggior parte delle persone commette l'errore di pensare che il design sia l'aspetto esteriore di una cosa, ciò che si vede, che sia come una vernice che ai designer venga data una scatola e venga detto loro tieni, falla bella. questa non è l'idea di design che abbiamo noi. Il design non è solo l'aspetto di un prodotto o le sensazioni che evoca. Il design è come funziona. Qualcuno di voi forse saprà che stiamo citando Steve Jobs. Questo è un excerpt di una sua intervista al New York Magazine del novembre 2003, vent'anni fa. Da oltre 40 anni Apple è e continua a essere, non è da 40 anni però, negli ultimi anni, un'azienda è design centered da sempre, come era nella visione, ed è un'azienda che anche nel 2022 ha continuato a guidare la classifica del brand Finance Global 500, quindi le top 500 aziende al mondo come brand con il maggior valore. Non solo, ma sempre secondo il brand Finance Global, gli potevano dare un altro nome a questa cosa, 500, Apple è la brand con il più alto valore mai registrato di sempre. e quindi uno potrebbe dire questi fanno un sacco di soldi, no? Cioè nel senso ma c'è del valore lì, no? No. No. E quindi continua a non esserci questa percezione di valore né nel pubblico ma soprattutto non nei decisori. E allora mi sa che tocca a noi. Cioè siamo noi designer che dobbiamo fare un po' i sindacalisti e dire forse dobbiamo attivarci per trasformare l'idea del design no? Che è quella cosa che uno ha le sedie di design no? Che è quella cosa che tu hai pagato molto più di quanto vale perché sei pirla e hai bisogno di avere le cose di design no? E dobbiamo trasformarlo nel design nella pratica in cui si progetta un prodotto o un servizio affinché sia il prodotto servizio migliore possibile all'interno dei propri limiti e malgrado questi limiti nella pratica in cui si getta avanti con visione creatività e immaginazione l'idea di una soluzione di una cosa nuova di una nuova mediazione con il mondo che ci circonda torniamo all'inizio allora torniamo alla missione di design culture collective e al tema di questo talk visione è una caratteristica imprescindibile per chi pratica il design perché la designer deve vedere cose che ancora non esistono deve gettare avanti la sua mente creativa usarla per immaginare qualcosa che ancora non c'è per essere poi in grado di tracciarne i contorni di creare una mappa di rendere reale e trasferibile questa visione perché se la visione resta visione che ci facciamo sta nella tua testa ma il designer oggi deve anche essere consapevole delle implicazioni di questa visione deve essere consapevole delle proprie intenzioni perché e nuovamente fermiamoci a pensare a come la visione di un singolo Steve Jobs assieme alla sua determinazione e alla sua caparbia intenzione abbia in meno di 40 anni completamente trasformato il nostro modo di vivere pensate al potere di quella visione alla forza di quell'intenzione che ha cambiato in modo strutturale il nostro rapporto la nostra modalità di interazione con gli altri e con il mondo il design ha un grande potere e come sappiamo il design media e intermedia le nostre interazioni con quanto ci circonda da forma agli ambienti in cui viviamo agli utensili che usiamo ai mezzi agli abiti agli accessori ma non solo il design intermedia la comunicazione intermedia il modo in cui ci vengono fornite le informazioni e il modo in cui fruiamo delle informazioni da forma alla didattica al marketing all'intrattenimento la buona parte delle nostre esperienze solo per non dire tutte è mediata e intermediata dal design e per chiarezza la differenza semantica nell'accezione dei termini è data dal fatto che la mediazione è considerata una cosa naturale e gratuita mentre l'intermediazione passa da un'idea di business il design media e intermedia quindi attraverso strumenti o sistemi che sono stati progettati per noi a volte a volte come sappiamo perché la storia ci insegna invece sono usati contro di noi e quindi il design ha un grande potere e da un grande potere ce lo insegna Spider-Man derivano grandi responsabilità la designer di oggi è guai se non ne ha consapevolezza che i prodotti della sua visione e le sue intenzioni hanno un impatto sugli altri e sul mondo guai se non ha consapevolezza delle implicazioni etiche del suo lavoro sia nella fase di ideazione e progettazione che nella fase di produzione ma soprattutto nell'utilizzo finale guai infatti se non ha consapevolezza delle finalità ultime dei prodotti a cui dà forma e vita se non considera fondamentale quella trasparenza che permette a chi usa i prodotti che ha progettato di comprendere a propria volta le implicazioni che derivano dal loro utilizzo e guai se non rispetta il diritto inalienabile di chi usa il prodotto del suo lavoro di poter sempre essere in grado di capire e di scegliere guai se al designer manca la consapevolezza della fondamentale importanza che le sue scelte progettuali siano guidate da valori solidi perché non è più possibile pensare alla progettazione di una qualsiasi esperienza fisica o digitale che non includa un pensiero critico e consapevole a tutti questi e ai molti altri aspetti che ne condizionano l'impatto il design è politico perché il design contribuisce alla creazione di politiche il design è politico perché crea e ricrea e trasforma e cambia canoni perché ha un impatto diretto o indiretto su tutto e su tutti e la designer non si può esprimere esimere dal considerare le implicazioni etiche sociali economiche sistemiche del proprio lavoro che non significa utopicamente pensare al lavoro solo su quello che mi piace ma significa lavorare educare ed espandere la propria consapevolezza e la consapevolezza del potere del design e dell'impatto che la pratica ha sull'intera esperienza umana è su questi presupposti che si fonda la mission di design culture collective sull'idea che sia fondamentale tornare a parlare di cultura della pratica del design affinché quest'ultima possa essere radicata in principi e buone pratiche positivi migliorativi tutelanti inclusivi rispettosi ed è fondamentale parlare di cultura della pratica del design e non di una generica cultura del design come fanno certi business quando raccontano di avere al loro interno un intero team dedicato al design il cui ruolo spesso è relegato all'applicazione di formulette americane la mia nemesi e di processi codificati che stanno alla pratica del design come i preparati per le torte in scatola stanno alla pasticceria tutti hanno dignità però non è la stessa cosa o peggio team di designer a cui vengono consegnate scatole e viene dette loro fatele belle non c'è design senza pensiero critico e non c'è pensiero critico senza cultura sono i due termini chiave qua cultura e pratica ma cosa significa cultura cultura dal latino colere coltivare si riferisce generalmente ai modelli dell'attività umana e alle strutture simboliche che danno significato e importanza a tali attività la cultura è stata definita il modo di vivere di un'intera società e in quanto tale include codici di costume abbigliamento lingua religione rituali arte norme di comportamento e sistemi di credenze l'antropologo James Bradley offre questa bellissima e succinta descrizione del termine cultura la cultura è la competenza acquisita che le persone usano per interpretare l'esperienza e generare comportamenti spacchettiamolo riconduciamolo alla pratica la competenza acquisita quindi che si impara e quindi che evolve che le persone usano per interpretare un'esperienza quindi per comprenderla digerirla farne significato questa competenza acquisita metabolizzata e trasformata in significato informa le nostre azioni quindi le nostre scelte le nostre prerogative le nostre priorità le nostre intenzioni i nostri valori e cos'è una pratica? per la treccani deriva dall'aggettivo pratico e ha una prima definizione attività volta a un risultato concreto in un certo campo in un certo settore spesso in contrapposizione a teoria definizione 1b esercizio di una professione di un mestiere di un'arte di una tecnica o in genere di un'attività e qui direi che siamo allineati no? ha senso però mi voglio soffermare anche sulla seconda definizione della seconda definizione una serie di atti dettati dal rito o dalla consuetudine attraverso i quali si svolge qualcosa la consuetudine a cui si fa riferimento nella pratica del design sono tutte quelle teorie regole norme buone pratiche atteggiamenti valori che rientrano nella nostra definizione di cultura dobbiamo fare attenzione che non diventi culto cioè un'attività in cui si applicano criteri automatizzati le famose formulette quindi senza pensiero critico deve essere cultura nel senso più ampio e condiviso del termine una competenza acquisita metabolizzata trasformata in significato e quindi in intenzione che diventa bussola per le nostre azioni come designer per le nostre scelte come designer per le nostre prerogative come designer per le nostre priorità per i nostri valori come designer parafrasando Spradley quindi potremmo definire come cultura della pratica del design le competenze acquisite che i designer usano per dare forma alla propria pratica e generare le esperienze risultanti ne consegue che l'aspetto culturale che informa e supporta la pratica del design è fondamentale eppure è tendenzialmente trascurato offuscato dalla tecnica o a favore dell'applicazione cieca di formule predefinite che a volte si basano perfino su valori diversi da quelli del bene comune per questo l'associazione si prefigge di promuovere e valorizzare l'approccio culturale alla pratica del design creando e promuovendo conoscenza e consapevolezza formando chi progetta ma anche chi decide sul valore e sul potere del design sull'impatto che ha nel dare forma alle nostre esperienze e sul rispetto che questo potere richiede e pretende pensiamo sia necessario coltivare e promuovere una cultura che informi e guidi che solleciti pensieri critici in chi il design lo pratica lo insegna in chi ne ha fatto o in chi ne vuole fare l'oggetto del suo percorso professionale ma anche di vita perché il design non è proprio un mestiere che uno fa senza parteciparlo vogliamo anche che la cultura informi e guidi chi il design lo riceve lo usa lo commissiona lo acquista e lo approva perché il design ha un grande potere ed ha un grande potere derivano grandi responsabilità ed è per affrontare e gestire queste grandi o piccole responsabilità che chi progetta deve poter far riferimento a una solida base culturale per guidare la propria visione mettere a fuoco la propria intenzione dare al proprio progetto la miglior struttura possibile e far tornare tutto domande se ne avete magari no qualche domanda o riflessione da condividere che paura no? ok o sono stata chiarissima o sono stata oscurissima una delle due arrivo ci può dire qualcosa sull'associazione di cui lei fa parte grazie veniva dopo le domande l'associazione si chiama design culture collective è un'associazione nata da pochissimo però trovate sul sito un po' di informazioni è una no profit assolutamente è un'associazione culturale iscritta al terzo settore se volete vi racconto il design del fare un'associazione e iscriverla al run cioè parliamo di design parliamo di design che puzza ok e se volete questa sono io se avete qualsiasi feedback o qualsiasi domanda vi prego di mi iscrivete su tweet finché dura se no sono insomma è trovate sono zraffix ovunque oppure alla mail io ringrazio WordCamp è la mia prima volta come speaker al WordCamp Torino e ringrazio tutti voi del vostro tempo grazie grazie Raffaella prego mi hai aperto un mondo grazie a tutti